Secondo me Con l'ingresso di questa carta Il nerf al mana Inizia ad avere un po' di senso Leggermente Un po' di senso lo ha Il nerf al mana Il fatto che questa costi zero Rende la giocata in tempo Chiaramente interessante Eeeh Eeeh E' la prima volta Che il mage Riesce in qualche modo Se vogliamo accittare Il livello di mana Un po' come fa il druido Ora Lasciamo stare Che innervate Ti comunque permetteva Di Upgradare Di Di avere subito Due cristalli di mana Quindi utilizzarlo eventualmente Anche per spell o altro Chiaramente questo In un deck Magari formato Basato d'elementali Alla fine Fa un po' la stessa cosa Nel senso Puoi giocare Un elementale A due mana in meno Due mana su Warzone Sono veramente veramente tanti Quindi La carta di per sé Ha Un po' per level Buono 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 Eeeh Dove la vediamo però Sta carta Ecco Quello che vorrei capire da voi E Se voi vedete sta carta No E E vi fermate chiaramente Al potere Potete dire Forte o meno forte Eccetera Alla fine Quello che dobbiamo Capire E dove la blizzard Vuole che noi giochiamo Questa carta Questa espansione E' molto interessante Perché sembrerebbe quasi Che la blizzard Stia puntando su nuovi archetipi No Questa è una cosa E la vedremo soprattutto Durante la car review di oggi La blizzard Vuole che nascano Archetipi nuovi Sta puntando E investendo Su questi archetipi Control pala Beast druid Discard lock Eeeh Elemental mage Però questa carta Rimane circoscritta solamente A elemental mage O se O se possono Fa porcate Quando una carta Ti permette Di fare una giocata A due mana in meno Ed è messa in due per Nel mazzo Da consistenza Si possono Fa porcate Con porcate Quando io parlo Di porcate Parlo di Ottikappa Se possono Fa ottikappa Questa carta Poi magari Vedremo La sua canonica Utilizzazione In un deck Tempo based Con gli elementali Quello è chiaro Però Prima del passaggio Elementali Se può Fa porcate Beh Se possono Fa porcate No Elemental Ti odio Un po' Eeeh Ma anche tempo Se ne peschi due A turno uno Resti con zero carte Eeeh Se ne peschi due A turno uno Vuol dire caro Che tu le peschi Entrambe nel mulligan Insomma Beh Nel senso Se ne peschi due Nel mulligan Ed hai un deck Elemental mage Tu le porcate Minchia se le puoi fa Certo che le fai A meno che non Tu decchi carte di merda Ma in un deck Elemental mage Tendenzialmente Tu te ho decchi elementali E giocare un tal creeper A costo uno A me non mi sembra male Magari contro un aggro No però più indietro No andando magari A scavare A scavare Nel senso L'ottico Il questless mage E' un deck Che ultimamente Sta riscuotendo Un discreto successo Non che sia top tier Ma un po' si E il problema In realtà Del questless mage E' che il deck E' per lo più lento Eeeh Non tanto Non che sia lento Nel senso Il questless mage E' in grado comunque Di sviluppare E di ciclare carte In maniera abbastanza efficiente C'è la spell a 2 Che pesca 2 mana C'è l'internet arcano Che pesca 2 Che ho detto C'è la spell a 2 Che pesca 2 carte C'è l'internet arcano Che pesca 3 carte C'è la crypt of pain Che lo fa pescare Insomma A modo di pescare Il problema Che in un'ottica Mage Senza la quest Non si è mai riuscito In realtà A fare la combo In un turno solo No C'è un questless mage Cosa vuol fare Vuole giocare La spell a 3 Sulla sorceress Eeeh Vuole poi Giocare Il Live in Per poter Andare a scontare La sustra E spesa La spell a 3 Per poi attuare la combo Allora Questa cosa Io che ho pensato E che ha pensato Anche chi ha rivelato La carta È un qualcosa Che non è Non è detto Funzioni Nel senso La cosa funziona Non è detto Che sia così Eeeh D'impatto C'è La combo c'è Voi potete fare La combo Di un greatest mage Nello stesso turno Come la fate E niente Mettete Antonidas Giocate doppio Doppia spell a 0 Mettete Il 4-5 Discontate E poi giocate La spell a 4 No Quindi in un turno solo Chiaramente dovete essere Abbastanza veloci Un po' come quello Che capitava All'apmprista Voi potete fare In un turno La combo E vincere la partita Chiaramente Devete avere Steggarti in mano Però in un turno Far la combo Non mi sembra male Il fatto è che Bisogna in realtà Questa è una combo Molto Com'è che si dice caro Eeeh Non ambita Per carità di dio Una combo molto Mi manca il termine caro L'aggettivo preciso Per L'hai cercato No caro No 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 Utopistica Se vogliamo Ma meno di utopistica Utopistica è troppo Eeeh Eeeh Che di che stai dicendo caro Sto scrivendo in chat Legnose Gridi Ardita Ambiziosa Braa Ambiziosa Ardita Gridi Si mi piace tutto Quello che state dicendo voi Però E' una cosa Che è possibile fare Eeeh Sai Nel senso che Mai dire mai Quando si parla di otk Vuol dire comunque Vincere la partita in un turno Quindi sapete Per quanto gridi Può essere Se troviamo il modo Di farla funzionare Vuol dire comunque Vincere in un turno E vincere in un turno Non mi sembra poi Una cosa molto Eeeh Sbagliata Visto che comunque Il mage ha un sacco Di particolarità Nel senso che riesce a Installare molto bene Tra Blizzard Frost Nova Doomsayer E chi più ne ha Più ne metta Quindi sapete Se può fare la combo In un turno Grazie a questa carta Perché ricordiamo Andando a scontare I due elementali Andiamo a giocare Tutto questo A dieci mana E la possiamo fare Chiaramente Non è questo Non è questo Credo Che sia il volere di Blizzard Non penso che questa carta Sia stata Eeeh Scritta E realizzata Per il Questless Mage Questa carta è tipica Di un Elemental Mage Cioè Questa carta è fatta apposta Per Elemental Mage Un deck che purtroppo Ancora Non è riuscito A imporsi sul meta Perché purtroppo Per quanto Ci possano essere Degli elementali validi Eeeh Non erano sufficienti Ora Elementali sono usciti Perché Eeeh Perché Il Semana 3-3 Adesso Il Semana 3-3 Che come tutti Ben mi avete detto Giustamente Fa quello che fa Un Dust Breaker Ma costa due di più E anche qua Ci sarebbe Dali di Perché come Come l'ho detto Quando Analizzata Nel senso Un Elemental Mage Non ha modo Di far danni in bordo Cioè Se un Elemental Mage Gioca contro un aggro Magari contro No Su O con un Paladino Eeeh L'Elemental Mage Fa problemi Anche se Anche una Semana 3-3 Potrebbe essere interessante Una Semana Scontata di due Vuol dire Una 4-mana 3-3 Che poi diventerebbe A tutti gli effetti Un Dust Breaker Che fa Tre danni A tutta la board Andandola credo A tradare Visto che si parla Di una E' un po' come Quando regà Voi vi tenevate Ocean Eye Circo La stessa cosa Quando si giocava Il Control Priest Si teneva Ocean Eye Circo La stessa cosa Perché nel momento In cui L'avversario era aggro Voi con la combo A 4 di mana Pulivate tutto Questa è la stessa cosa Con la combo A 4 di mana Fate 3 danni A tutti i servitori Non ne fate 4 Ne fate 3 Però tendenzialmente Contro aggro 3 danni Spesso e volentieri Voglio dire Borklear Potete giocare 3 mana Il Bonfire 3 mana Bonfire Non è male Cristo santo In un deck Che c'ha anche le lucciole No? Cioè 3 mana Bonfire Vuol dire Metter a costo 3 Un 5-5 E pescare una carta Se avete giocato L'Elementale Il turno prima Che in un Elemental Mage Dovrebbe essere una cosa Abbastanza plausibile Giocare un 5 mana Blitzcaller Non mi sembra Una cosa sgarbata Nel senso La carta è buona Per un Elemental Mage Non so però Se sarà sufficientemente Buona Da far si Che l'Elemental Mage Possa dire la sua Nel meta Secondo me Ha un senso A sto punto Anche la Spella 5 Cioè la Spella 5 Ve la ripeto Fai 2 danni A tutti i minion Overkill Prendi una Spell casuale Del Mage Un Tempo Mage Secondo me Vuole anche avere Un po' di value in late Magari Giocata in combo Con il 2-1 Che tira a doppia No tira a doppia Il Celestial No L'Emissario Celestial 2 mana 2-1 La prossima Spell A Spell Damage Più 2 Ecco la Spella 0 Volendo la giocata 0 Quindi potete fare Sta giocata 5 mana Per poi giocare In curva Non so quanti mana Poi vi possono restare Però ecco Secondo me In un Elemental Mage Quello che voglio dire Alla fine Che in un Elemental Mage Sta carta 0 Voi la mettete sempre In doppia copia E quindi secondo me Per un Elemental Mage Sta carta è buona 5 mana 3-4 Rush overkill Spawn a 2-1-1 Bazz Vabbè sarebbero i cosi No i pipistrelli Perché mai Questa carta dovrebbe Essere forte Parlando di Constructed Parlando di Constructed Infatti Parlando di Constructed È una carta fila Oppure no A Polly piace Ma Polly piace In arena forse Perché se a Polly piace In Constructed Non può essere Che a Polly piace Sta carta in costrattata A in costrattata Sta carta non piace A nessuno Cioè nel senso 1-3-4 Chi uccide Per broccare Il suo effetto Di overkill È una domanda Retorica Tantino non mi risponde Il paradino Che infassisco Questa carta qua Ti alzo un po' Per la porti Dove parla più piano Questa carta qua 5 mana 3-4 Uccide Approprietano De l'overkill Solamente servitori Che hanno 2 di difesa Che sono molto rari Soprattutto Visto che sta carta Costa 5 E si parla già Di mid stage No Se vogliamo Dopo late stage Quindi Penso che Tu overkill Tendenzialmente Non lo vai A utilizzare È normale Ci sono dei casi In cui questo overkill Lo utilizzi Per esempio Se viene baffata Da Keleset Se viene Topdeccata Magari Da Akali No La 5-5 Del warrior Ci sono dei casi Però Che sono talmente Tanto inconsistenti Che rendono Secondo me La carta Una mezza Fellenia Inoltre Inoltre L'overkill Cosa fa Spona 2 Bazzuno 1 Sì va bene Non è male Come effetto Non è male Alla fine Renderebbero questa carta Addirittura Con E B positivo No Addirittura Con E B positivo Perché Se vogliamo fare Il solito calcolo Che fanno sempre Sarebbe Una 5-6 Quindi 5-6 Più 0-5 Il che ci sta pure Inoltre Sapete quanto Tre servitori Tendenzialmente Sono meglio di uno solo Magari non decco Come il token druid Tutte cose che però Purtroppo Non mi fanno pensare Che questa carta Possa brillare E soprattutto Questa carta È l'ennesima prova E stavolta lo dico Che la blizzard Sta puntando Tanto Soverkill Sai per quale motivo Tatillo Stavolta lo dico Sta Ma stai in magna Vabbè Sta puntando Bellini miei Tanto la blizzard Soverkill Perché ce la sta Fappagando Ce la sta Fappagando Ce la fai Ce la sta facendo Pagare tantissimo L'overkill La blizzard Ce la fa Pagare tantissimo Perché se questa fosse stata 5 mana 4 o 3 Potevamo discuterne Minchia Ne discutevamo Si 5 mana 3 o 4 Secondo me Non rende giustizia Al costo in mana E all'effetto Che in realtà fa Questo è quello che penso io Se qualcuno Di pensa al contrario Me lo dica ora Otaccia A sua volta Come dice il parnet Allora capitano Huck Capitano Huck Abbiamo sentito Quello che ha detto Tatillo Perché Tatillo Salute Si funziona Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ritornato Paolo Sì adesso Secondo te ho fatto Secondo te ho fatto Me ne va Ma non posso essere preso Così in giro Ho fatto apposta Per farmi Ti rendi conto Quello che mi ha detto Che l'ho fatto apposta Che l'ho fatto apposta La mandrina Per Capito E adesso tu Urla allora Io ti urlo nell'orecchio Allora Timoti ha detto Una cosa molto Molto buona Che al contrario Giustamente Non è Scontata Tutti Tutte le persone Quando pensano A un pirata Pensano a cosa A quello che ha detto Non la faccio Bravo Ora qui A uno a uno Brava A peces Vero A che pensi Pensi Ad andare faccia Pensi all'aggressività Quanto invece Una persona Dovrebbe essere Mentalmente Secondo me Più flessibile E capire Quando è ora Di passare Dall'agro Al midreggio No Tatillo Perché non passi Dall'agro Al midreggio Perché devi snobare Il capitano Ucchio Come hanno Perché è un pirata È un pirata Ma io vado a scrocco Paolo Stai andando a scrocco Quindi potresti Contraccambiare Al gif sub Se no Voi scrocco Bello Sampato Paolo Dov'è Dov'è lo stro pool Lo stro pool Del capitano Uc Dov'è E non lo vedo Vedo solo Paolo Che urla Vabbè rifarlo Dai rifarlo Ok Ma di pirati Ce ne sono anche pochi Vero Alex Quello potrebbe essere Un problema Però aspetta un attimo Aspetta un attimo Cerchiamo di valutarla Bene insieme Allora Il fatto è che Se uno pensa giustamente All'aggressività Fondamentalmente Secondo me Non riuscirà mai A trovare un deck consistente Perché non lo trovi Perché giustamente Come hai detto te Ce ne sono pochi I pirati sono pochi Con il fatto che Patches è uscito E vabbè È stato anche nerfato Con il fatto che Mancano alcuni pirati Di vitale importanza Secondo me E soprattutto Col fatto che Questa è un 8 mana 6 3 Che dal rush Non Non puoi Non puoi fare Quello che era una volta L'aggro Face Pirate War Pirate Rogue Non esiste Non lo puoi fare Mettiamoci l'anima in pace Non lo puoi fare Ma questo però Non implica il fatto Che questa c'è una carta di merda 8 mana 6 3 Spona 3 pirati Dal tuo deck Se non c'è Allora da dirlo Ridillo Ridillo Se era Con lo stesso tono C'è Una carta 8 mana 6 3 Spona 3 pirati Dal tuo deck Mi piace Ti piace caro Ecco Se fosse stata 8 mana 6 3 Summon 3 minions From your deck Sarebbe stata Come sarebbe Cioè Sezzo No Cioè sarebbe stata Una delle carte più forti Mai pensate Giusto Mai pensate Bravo Ok Questa fa la stessa cosa Chiaramente Non potevano far 3 minion Sarebbe stata La carta più forte del gioco 3 pirati Pirati Ma Perché uno Quando pensa ai pirati Pensa i 2 1 con rush Perché quando uno pensa ai pirati Pensa a un qualcosa che deve essere per forza terribilmente aggressivo E non vanno a di più un mid-range Capito Le carte 1 1 Corrato Presa per il culo Fia Ma poi scusami Cioè La domanda La domanda Fermati Fermati Se usi questa qui Sì Ti ascolto Esce Pris Cioè Allora Nevoca 4 o 3 Cioè Pacis Ha come effetto Quando evochi un pirata Entra in campo Ok Ah Certo Ah beh no Pacis entra in campo E poi altri 3 pirati Caro No Perché il battle cry Si attiva prima Cosa si attiva prima Io credo che Si attiva Io ti odio Queste domande di merda Perché la wide Non mi interessa Giochi il pirata Pacis entra E poi Evoca 3 pirati Quindi dovrebbero essere In realtà 3 più Ma caro mio Ma scusami un attimo Tu all'ottavo turno Non hai giocato pirati Ma sei deficiente Poi all'ottavo turno Che hai fatto Ti sei fatto un pimpone Ma ho capito Il mid range Vuol dire comunque Giocare in curva Infatti Bravo Infatti Dobbiamo trovare comunque Un'identità A questo nostro Mid range Pare tu Pare troga Perché non basta una carta Per dare un'identità al deck La carta ragazzi È molto forte In un mid range Ottomana Mettere un 6-3 Più altri 3 pirati Scusatemi È OP come cosa Così come OP Chiaramente Il mastro Guardi Quercia Così Se vogliamo Come Pickle La carta fa quello Fa La carta evoca 3 pezzi Più mette un 6-3 Vero che c'ha un EV di Meno 3.5 Però lo recupera tutto Con i 3 pirati evocati Che pirati vogliamo evocare Noi? Eh stiamo giocando Mid range Quindi purtroppo Noi non possiamo evocare pirati A livello aggressivo Possiamo evocare pirati Che hanno comunque Un po' di decente E quindi Ecco a voi Il fatto che questa carta Potrebbe Essere comunque Molto forte Perché Cioè nel senso Di pirati buoni Come avete detto Ce ne sono molto pochi Però quelli che ci sono Ce li dobbiamo far bastare No si dice Ho sbagliato Ero un'altra carta Ho sbagliato io E so che C'ho anche una certa età Aspettate che ve la cambio subito Sempre due mana L'avete capita tanto quale no? Il 2-2 pirata Che evoca i 1-1 E il 2-2 pirata Che ogni volta che attacchi con l'arma Evoca un pirata Ma non è un pirata Ecco Il fatto è questo Che un deck di questo tipo Chiaramente Cosa ho detto È che un deck di questo tipo Deve avere un'identità Questo vuol dire Che noi non possiamo Fare affidamento solamente Su questa carta Per quanto Per quanto forte La carta è Al turno 8 È un po' come una Catrina No Tu non è che giochi Catrina Cioè Tu giochi Catrina Al turno 8 Per poter dare Una svolta alla partita Per poterla chiudere O perlomeno Per poter Dare quella cosa Che ti fa avere un comeback Per quanto è forte la giocata Oppure ti fa Chiudere la partita Cioè Ti mette un vantaggio in bordo Che l'avversario Non può colmare Questa carta fa la stessa cosa Però Ninun detratto l'hunter Tu fino al turno 8 Non è che ti giri pollici Qualcosa fai Bisogna capire Cosa fare Fino al turno 8 Con un deck Di questo tipo Che gioca pirati Quindi Non può essere even Cari secondo me Per me Non può essere even Purtroppo Perché In realtà Mancherebbe Il 3-3 Che da più 1-1 Che secondo me È dannatamente sbroccato Soprattutto Se giochi il 2-2 Che dopo Little Power Ti fa uscire un 1-1 Chiaramente Voi avete bisogno Del Capitaine Un deck Di questo tipo Non può quindi avere Nemmeno Keleset Perché voi non potete Non mettere il 2-2 Che evoca 1-1-1 La spell che vedete In realtà Purtroppo direi Non potete farla in combo Con il capitano La Blizzard A questo ci ha pensato A meno che voi Non abbiate un coin E volevo Cioè nel senso In un deck mid-range Prep No fai coin Prep Non Non puoi Difficilmente caro Tu in un deck mid-range Hai il coin Al turno 8 Molto probabilmente Visto che puoi fare Giocate tempo L'hai già giocato Quindi Non puoi fare Prep In 2 spell E quindi Non lo so in realtà Se la spell potrebbe Fillare in un deck Di questo tipo No Il cannon Barrage Però c'è Lo spirito Lo spirito Chiaramente L'ho preso in considerazione Anch'io E Anche lo spirito Se la memoria Non mi inganna Non può essere Giocato in combo Giusto? Perché Lo spirito addirittura Mi pare che costa 4 Lo spirito Dello squalo In un deck Di questo tipo Regà Secondo me Ci potrebbe addirittura Andare anche Lo squalo Lo squalo In questo deck Ce lo possiamo mettere Perché avendo Snaturato Chiaramente Lo stile aggro Di un pirate Rogue Lo squalo È più una carta Da tempo Mid-range Quando io ho analizzato Lo squalo Cosa ho detto? Ho detto che Purtroppo Visto che Il rogue Attualmente Non ha Tanti servitori E soprattutto Questi servitori Non sono Dall'altissimo Body Non ha senso A giocare lo squalo Ecco In realtà Facendo un deck Mid-range Pirate Rogue Lo squalo Potrebbe avere Un senso Ci metto pure L'amalgama Assolutamente Sì Non posso Mettervi tutte le carte Chiaramente L'amalgama Ce la metti Perché devi Dà consistenza Al fatto che Ti servono pirati Quando tu giochi Il capitano Wood Stuck Tu devi Aver la certezza Di giocare 3 pirati E vuoi Sempre Che questi 3 pirati Siano pirati Che hanno Perlomeno Il body Per poter andare A trattare Su board Stai giocando Contro un mid-range O contro un aggro Se tu al turno 8 amore mio Contro un aggro Mid-range Gli fai Board clear Solamente con Il capitano Woodstuck E magari Sfrutti L'overkill E magari Sfrutti L'overkill Del ticket scalper E magari Sfrutti Il detratto Del cursed cast Per riprenderti Una vilerba Perché tu la giochi La vilerba Non è che di questo tipo Secondo me Ci sono Tutte Le valide Motivazioni Per poter Per far si Che un tempo Pirate Mid-range Tempo Pirate A me piace Tempo Pirate Rogue A me piace molto Il nome Tempo Pirate Rogue Segnatevelo Clippate Tempo Pirate Rogue Secondo me Non dico che Sarà certezza Ma sarà Molto 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 Probabile Un deck Di questo tipo Seance 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 Non lo so Non è importante Non siamo inglesi Non dobbiamo andare Ad Oxford Ok Sentenza Scegli un minion Aggiungi una copia Di quello Nella tua mano Prego Sentenziatela Crisis Crisis Lot Lady Grazie mille Per il Prime Benvenuto Carissimo Grazie mille Anche Ad Antox 93 Per il secondo mese Di Prime Bella caro Buona serata E buona stream E buona visione a lei Caro Grazie mille Per il supporto Bentornato Nella schiena Grazie mille Al quarto mese Anche Ad Ale Lusi 23 Bentornato Ale E benvenuto A persone Inutile 90 Caro Lei non è Più inutile Di Aldo Vada tranquillo È impossibile Quindi si rassereni E si rincuori Grazie mille Per il Prime Bello mio Benvenuto Che vuoi Quanto è stata votata Sta carta 23 23 Cioè facendo Una somma Dei vari 1 No Sto scherzando È vero 4 ho visto 3 3 No no Ragazzi Sono propositivi Su sta carta E ora magari Mi spiegano pure Perché Poi ne parliamo Meglio di Zola Perché puoi prendere Un minion avversario Beh io partirei proprio caro Da quello che ti ho scritto Gabri Nel senso Quando il tag dice Il tag Scusatemi Quando il potere dice Choose minion Non possiamo Non possiamo rimanere con le mani in mano Vero Cioè la carta dice Scegli un servitore Scegli un servitore Significa Allora ribadisco Scegliere un servitore Che è presente Nella board totale Tu è avversaria E questo secondo me È un punto a favore Di questa carta Ci sono state carte del genere Come per esempio Due mana Discover Mi pare un servitore Una cosa del genere Questa no ragazzi Questa è molto più Control based Nel senso Scegli il servitore Il servitore che tu scegli Lo prendi E te lo metti in mano Poi ci fai quello che vuoi Ma intanto te lo metti in mano Va bene? Ricordiamo sempre una cosa Che le spell Del Del prete Hanno sempre un valore aggiunto Per qual motivo? Perché Vi ricordo Che le spell del prete Possono essere prese dalla vision Quindi Potete averne in realtà In due per Tre per Quattro per Anche Quindi ecco Nel senso A livello di consistency La vision Ti permette Di dare ancora più valore A una spell No? E quindi questo Ripeto È da dirlo La carta è lenta Ragazzi miei La carta è molto lenta Ma al contrario La carta è estremamente versatile Perché se da una parte è lenta Perché tu fai due mana Niente Due mana Passo È anche vero Che dall'altra parte La puoi giocare In numerosi Deck Io Tu lo sai Io so amante di due cose La prima la sai La seconda È chiaramente Delle carte versatili Qual è la prima? Eh? Nato in warrior Nato in warrior Nato in warrior Qual è la prima? L'amicizia La famiglia Mamma Mamma la prima La figa Ti sta seguendo La mamma Ma no Ma che sei impazzito De mamma È la tua La figa La mia Non ti ha un saluto Ma che sei matta Ma che sei Quella di Aldo Ma perché ogni volta Mi sta a fare la cafonata Mentre si parla Da una carta Non ho capito Questo discorso Non ho capito Perché ti ho passato Sempre dal serio All'infantile Allora La carta è effettivamente lenta Ma ripeto Mi piace perché È seriamente versatile Vogliamo un attimo Capire dove Se la può prendere Il Vogliamo capire dove La potremmo utilizzare Eventualmente In un deck prete Perché la carta può Entrare in qualsiasi deck prete Se vogliamo Però Iniziamo a capire Qual è il deck Che più potrebbe Approfittare Di questa carta Allora Tempo miracle Allora Tempo miracle Regà È quello che vi dico sempre Cioè La blizzard Sta puntando milioni Dopo che ha realizzato Quella mano Dopo che ha realizzato L'arma Tremana No Se giochi spell Evoca un 5-5 drago Ti ricordi no Ecco dopo che ha Stampato quella carta Sta investendo milioni Per poter Avere in qualche modo L'opportunità Di giocare un tempo Un tempo Un tempo Un tempo priest Radiante elemental Lira Il nuovo gigante Ok Eh vabbè Sì ci sta Nel senso Voi la potete mettere Ma la potete mettere Magari Sia perché potete Pagarla 1-0 Se avete Elementale Lira E soprattutto Perché potete Prendere una seconda Lira In un deck Comunque che si basa Sull'utilizzo Della lira Per poter andare A ciclare spell Mi sembra Mi sembra una cosa Molto lenta Da una parte Ma dall'altra È una cosa Possibile Non Non dico che Per forza Sarà così Perché penso che Il tempo Miracle priest Deve magnà di strada Prima di vederla Tier 3 Eh ma proprio Deve Però È un'eventualità Ci può stare E poi Non lo so Cioè nel senso Un resurrect priest Allora un resurrect priest Sapete che ho un deck Molto lento No quello che voi Chiamate asmo de priest E il resurrect priest La stessa cosa Ecco Un deck di questo tipo Potrebbe usare Sta carta Snì Nel senso O la pre Magari In questo caso È meglio che Te la dà la lira Perché in questo senso Voi In un resurrect priest Non credo Volete più servitori Di quelli che già avete Un resurrect priest In realtà Ha già troppi servitori Perché il resurrect priest Quando vuoi giocare La sperson Il resurrect Vuole trovare Velen e Malikos Per poter attuare La combo T che E quindi Difficilmente Voi volete Prendere altri servitori E quindi sai Non è che mi piace Tantissimo In un resurrect Certo ripeto Potete giocarla Per avere Magari Un ulteriore pezzo Magari L'avversario Che ne so Gioca Non lo so Un pezzo Grosso Che potrebbe essere Un dasta Ma non so Quanto vi potrebbe Interessare Un dasta Però cose di questo tipo Leech king Ma magari anche Leech king Voi magari Non l'avete ancora trovato E lo volete Nel frattempo La spell viene buffata Potete comunque Avere un leech king In più Che può uscire dalla spell Se non dovete prima giocarlo Vabbè È possibile anche questa Secondo me però Il motivo per cui Sta carta è stata stampata È perché vogliono dare Secondo me Manforte La nuova spell Leggendaria La nuova carta leggendaria Che hanno Che hanno Che hanno fatto uscire Poco tempo fa Talanji Non so se l'avete scritto In chat No Talanji Talanji No quella Quella portoghese E Non è portoghese Talanji però si chiama No la Talanji È una Ottomana 8.5 È la nuova leggendaria Del prete Che vi permette Qualora sia giocata Come chiedo di battaglia Di evocare Sul campo Tutti i servitori Che non sono Che non erano presenti Nel vostro deck Di origine E Secondo me Stacatta è stata stampata Per questo Nel senso che Talanji Voi giocate la spell a 2 Su altri servitori Che possono essere anche i vostri Anche quegli avversari Dopodiché Giocate Talanji E avete quindi Questa value In modo che questi servitori Dientrano praticamente a 0 Allora Detto questo Perché sta uscendo a clip Ah mamma Ok Detto questo Basta sta cosa C'è nel senso Un deck Che ha Talanji Che deck è Dove la usi Talanji Perché la combo c'è Può essere pure interessante Però bisogna capire Dove la vuoi utilizzare Perché se tu la utilizzi In un Resurrect Se la giocate in quel deck Voi rischiate poi Di avere La Talanji Come Minion Che esce dalla spell Come Minion Che esce dalla spell a 9 Come Minion Che esce dalla spell a 4 Talanji Cioè voi avete Sta Talanji Che vi esce dalla spell a 9 E voi non la volete Sta Talanji E quindi La carta Rimane comunque Una carta versatile Ma attualmente Io non trovo Una giusta collocazione Io cari credo Che il Gonk De Rattor È L'ennesima prova Che la Blizzard Sta lavorando Come avrei voluto Lavorasse E io con la Blizzard Non ci ho parlato Anche perché non posso Io volevo Assolutamente Che la Blizzard Sfornasse 9 archetipi Tatillo mio La Blizzard Sta facendo Per ogni deck Un archetipo Che attualmente Non esiste Il che Lo rende Una mossa Molto azzardata Ma se Dovesse funzionare La Blizzard Ha vinto Cioè nel senso Arson ha passato Quanti mesi Di noia Cioè di noia Quanti mesi di lamentere Da parte degli utenti 4 5 Tantissimi Cioè del tipo Che se Arson Non è morto Durante sti mesi Arson non muore più E se la Blizzard Puntando su questi archetipi Nuovi Ha fatto centro E questi archetipi Entrassero in qualche modo In meta Non dico per forza Tier 1 Ma anche Tier 2 Va benissimo Cioè se questi archetipi Comunque se la giocano Con deck Del meta Siamo fortunati Perché potremo Vedere numerosi deck Nuovi Il Beast Druid È un deck A cui io non avrei Dato una lira Ti ricordi la prima Carta 7-7 Bestia Quanto ci ho sputato sopra Ma che piano piano Grazie al supporto Che stanno dando A questo archetipo Potrebbe funzionare Raga potrebbe funzionare Il Beast Druid Allora che ci abbiamo E ci abbiamo Ci abbiamo un sacco De cose fighe Innanzitutto Il CT mana Che il Druid può fare Tra cui Naturalize E sì vabbè Tra cui Wild Grow E Nourish Abbiamo sempre La nostra Fiorissima Ultimate Infestation Dopodiché iniziamo A metterci le bestie Mettiamo le doppie spell a 6 Che ci fanno Mettere una bestia in campo Poi ci mettiamo Teranus Ci mettiamo un Dassa La 7-7 con Overkill E ci mettiamo Gonk the Raptor E beh Gonk the Raptor è quella carta Che a prescindere dal fatto Che sia più o meno forte È una carta In cui il tag In questo senso Conta tanto C'è il tag bestia Di Gonk the Raptor Non voglio estremizzare troppo Ma conta Forse anche più Del potere stesso Capito Quello che vi voglio dire Qual è il potere Di Gonk the Raptor È un potere abbastanza Strano Per un druido No Però non è nemmeno Troppo strano Se ci pensi Io ci ho pensato Tatillo Ti posso esplicare Il mio pensiero Qual è stato Dimmi dimmi Allora Se noi Abbiamo un beast druid E in questo beast druid Non mettiamo la spell a 4 Perché non mettiamo la spell a 4 Primo perché non vogliamo i golem Secondo perché non vogliamo Nemmeno i 4-7 Raga Purtroppo non ci sono bestie Che puoi reclutare Con la spell a 4 Perdiamo la spell a 4 Lo so Dispiace Però dall'altra parte Se noi non giochiamo la spell a 4 Possiamo giocare La nuova leggendaria La leggendaria Quella che È Versatilissima Che si Si può formare In 4 forme diverse Ti ricordi Il 1-2 No Diventa 4-2 con rush Diventa 1-6 con taunt Diventa 1-4 con Spell de vesture E Consequentemente a questo A parte chiaramente Nurice Che tendenzialmente Vogliamo usare per Rampare E ultimate infestation Non è che abbiamo Tantissimi altri modi Per poter andare a pescare carte Ora Io credo che Comunque lo spirito No Non credo che sta carta Possa giocare lo spirito Del druido Perché lo spirito del druido A me come carta Purtroppo non piace Però Però Se in qualche modo Riuscissimo a pescare Qualche carta Grazie magari A Lilo Power Direxrdk Non è male Cioè Dopo che il tuo eroe attacca E uccide un servitore Puoi attaccare Nuovamente Allora È normale che con Lo spirito Tu potresti anche pescare Mentre ti hai tutto Ma non credo che Il setup Sia Così facile Da fare Cioè Non sarebbe male Pescare Pescare No Quando abbiamo solamente Altive Cioè Solamente Abbiamo ultimate infestation Tra virgolette Altive infestation Pescare solo 5 carte Hai bisogno di pescare Non credo Ora Io ho letto dei commenti In cui la gente Ha denigrato Sta carta Perché Credeva Credeva Che il suo Eropower Fosse per sé Una win condition Il suo potere Molte carte Molte carte Quando vanno a supportare Un archetipo In questo caso Il tipo Beast Druid Non è che devono avere Per forza un potere Che deve essere Win condition Della partita Cioè Nel senso Perché uno Deve dare per forza A questo deck E ci deve mettere Per forza cose come Bite No Clove Savage Roar Perché Sto sta Ma perché Ma non ve le mettere Non ha senso Eh Perché Clove Perché quella Tira più 4 attacco Tra die Ma non Non serve Secondo me La cosa Che probabilmente Però nessuno Ha pensato È il fatto Che La twig La twig E qua mi sopposto La domanda È una carta Utilizzabile Solamente per fare OTK Perché la twig Visto che è stata Sempre giocata In O Tog O in Mali È una carta Che ne abbiamo visto Sempre per un deck OTK In realtà La twig Quello che fa La twig È darti 20 cristalli Di mana In un turno Ora io Vorrei un attimo Sfidare Qualcuno A dirmi Che 20 cristalli Di mana In un turno Sono roba Da poco Solamente roba Per OTK No Quindi secondo me Volendo Visto che abbiamo Anche gong The raptor E che la twig È forte a prescindere Da gong The raptor Potremmo Fondamentalmente Provare anche A sfruttare La sinergia Che ci potrebbe Esserta twig E gong The raptor In modo Magari Grazie anche A cose come Swipe Per esempio Perché ricordiamo Che il gong The raptor Potrebbe anche Essere sponato Dalla spella Quindi avremmo anche Mana a disposizione Per fare swipe Fiamo swipe E poi Se noi lo facciamo In maniera Intelligente Tramite l'arma Potremmo addirittura Distruggerci l'arma Perché L'arma perderebbe Di integrità Chiaro Ora Io credo Che questa carta Sia un auto Includo In un deck Di questo tipo Perché A prescindere Il fatto che sia bestia E So che purtroppo È un sette mana 4-9 Questo lo so Cioè nel senso Lo so Sarebbe stato molto meglio Un sette mana 5-8 No O addirittura Un sette mana 6-7 Forse Sarebbe stato ancora meglio Perché Un deck di questo tipo Beast Druid È un deck Big Quindi è un deck Fondamentalmente Che punta a mettere Servitori in campo E A vincere così Cioè nel senso Tu metti i servitori in campo Talmente grossi Che alla fine Vinci con questi Un po' come era Vi ricordate Il vecchio Big Druid Voi Mettevate Grobe Grosse in campo Tramite l'anaconda E Quando mettevate Quando vi trattava l'anaconda Che entrava un Tarantus In campo Vinci aveva dei Tarantus 12 danni Da volta che fai 12 danni All'avversario La partita è finita Tendenzialmente Poi ci sono casi e casi C'è un altro problema Perché noi stiamo parlando Comunque di Rexard Decay Stiamo parlando Della nuova leggendaria E io ho sempre detto Che secondo me In un druido Ci starebbe bene La spella 3 Quella che si chiama Witching Hour Credo a sto punto Che purtroppo Ragazzi La Witching Hour Non la possiamo giocare Perché giocare Una Witching Hour In un Perché giocare Witching Hour In un deck Beast Big Druid So che è forte Perché a 3 mana Evocate sempre Un qualcosa Che costa molto di più Quindi a 3 mana Voi Se vi va male A 3 mana Evocate il Gong Per farvi capire No Perché in realtà Tra le bestie Del Big Beast Druid È la più scarsa Abbiamo il 4-9 Poi abbiamo solamente Bestie superiori A livello di stat E potere Il fatto è che Se noi giochiamo Witching Hour Non possiamo giocare Né Malfurion Decay Né la leggendaria nuova Quella versatilissima E fighissima Né Spreading Plug Secondo me ne vale la pena? Cioè Metter due Witching Hour Per levare Quella che è La spell più forte del gioco Secondo me Che è Spreading Plug Contro Agro Il Decay Più forte del gioco Che è Malfurion Comunque fermati Fermati c'è una cosa Perché hai detto Una castroneria Da un bel po' di tempo Cioè? E te lo fanno Da provincia L'Anaconda È ancora in standard L'Anaconda È ancora in standard È un goro Va bene Il problema è che Non ci sono servitori Da poter Scombare con l'Anaconda Comunque Cioè nel senso L'Anaconda Druid Funzionava perché? Perché c'erano Cose come Ehm Come si chiama? Il Drake Quello lì 1212 Per la morte C'era C'era Il Sharaj Ok Ora il fatto che L'Anaconda Sia standard Cambia poco Comunque non ce la mettiamo Nell'Anaconda Questo deck Come fai a metterla? Sono tutte bestie Ma quando mai Le bestie voi le evocate Con la spell a 6 E con Un Dasta Basta Cioè Sono contento Che l'Anaconda Sia standard La salutiamo anche con cuore Ma Quando Quando tu mi Ti togli Sharaj E il 1212 Mi stai togliendo L'Anaconda Perché l'Anaconda Tu la giocavi per quello E rimane Teran L'Anaconda è una bestia Non mi ricordo Sì Non la puoi giocare Non la puoi giocare Cioè Tu rischi a 6 mana E Di evocare l'Anaconda In campo Tutto questo quindi Per dire che Witching Hour Non la mettiamo Che metteremo Spreading Plug Metteremo la leggendaria nuova E metteremo Malfurion Decay E secondo me Questa carta qua Dà Un ulteriore Piccolo supporto A un Beast Druid Che attualmente Secondo me Facendo due conti Doppia Wild Grow Doppia Natura La Doppia Wild Grow Doppia Nourish Ultimate Infestation Malfurion Decay Spreading Plug Mettiamo sicuramente Swipe Mettiamo tutto Tutto il set di bestia Che abbiamo Abbiamo finito Ci siamo arrivati a 30 carte Il deck è fatto Se vi piace o meno Non lo so Ma il deck è questo Provate a immaginarlo Vediamo un attimo Come si assessa il meta E vediamo se un deck Di questo tipo Possa funzionare Io mi auguro di sì Perché è un deck nuovo E secondo me è pure Molto divertente Dove c'è un Dasta di Chiedono un Odd Druid Ecco ci ho pensato anch'io A Odd Druid E non giochi la spell a 6 però Cioè nel senso Va bene per te Non giocare la spell a 6 Boh Cioè nel senso La spell a 6 Ragazzi miei La spell a 6 È quella spell Che a 6 Mi può far giocare a Tyrannus Cioè ti fa Entrare a Tyrannus Dentro no Cioè nel senso A 6 Teranthus A meno che non becchi Contro una vilerba Capisci che Mi ti spaccato Mi ti spaccato Attenzione che nel frattempo Si è spaccato da bollo La miliana Capisci che a meno che Non c'è la vilerba Tu non lo contesti Teranthus DT6 Difficilissimo contestarlo Quindi sai Secondo me la spell a 6 È di vitale importanza Spreading plug È sgravata Secondo me Certo Non è che di quel tipo Probabilmente vuoi giocare Witching Hour Penso Perché Già Malfurion Decay Potrebbe essere sostituibile Da Witching Hour Ah Peraltro Teranthus manco ce l'hai Perché è pari Bogslosher Ma che vuole Bogs Bogslosher 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 È la nuova Carta rara Minion Raro A tre mana Dello sciamano Che con tre mana Delle tre Ti dice Return E' friendly minion To hand E lo baffa Di più dei più due Allora Io ho capito Perché Cioè io ho capito Perché voi mi avete dato What Non è che c'è Vado anche un genno A capirlo La carta non è fatta Ma stanno rubando l'auto Allora Questa Avete finito Guarda che sta male La dirà Non prendiamola in giro Boh L'ho fatta Una svapata Brucia Niente Non va Niente Allora Questa carta Da un punto di vista Ma sei una merda Aiuta la scusa Da un E sto facendo Cosa molto importante Da un punto di vista Potrebbe sembrare un birraio Da un altro punto di vista Potrebbe sembrare una zola Da un punto di vista Questa carta Potrebbe sembrare Quella carta Che garantisce Ancora di più La combo Al cicia zampa No? Perché Non possiamo negare Che il Shadden Questa carta Dopo magari Che il Shadden Si è copiato No? Dal Sarnite Il Bog Ti garantisce la combo Quindi ci abbiamo Tremox Zola E Bog Slosher Sai che vuol dire Da dirlo a casa mia questo? Che la combo Il cicia zampa Non la sbaglia più E' impossibile Raga è impossibile Cioè Dovrebbe fare così Il cicia zampa Dovrebbe fare Zola Tremox E Bog E' difficile Nel senso Adesso è possibile Il Bog Purtroppo E' un ulteriore tool Al cicia zampa Che chiaramente Continuerà Io ti faccio una domanda Dica Dico prima una cosa C'è altro che dice I versi di mediana Mi ricordano un botto A me Mentre gioco a P E poi Poi Perché usare il Bog Invece allora Del birraio Il birraio A livello Competitivo Di torneio Del banchiere E' utilizzato Il birraio No Il birraio Il birraio Vedi che In torneo Lo utilizzano Nel cicia zampa Lo usano Sai qual è il discorso Caro Che Al contrario Del birraio Questa carta Per un mano in più Ti dà più 2 Più 2 Capito E il più 2 Più 2 Potrebbe essere sottovalutato Il fatto però E' che se noi Ci discostiamo Dal cicia zampa E cosa togli Dal cicia zampa Quello potrebbe essere Un problema infatti Cioè nel senso La domanda è Vale la pena Cioè Se noi Il cicia zampa Lo giochiamo bene Noi Andiamo A ridurre Tantissimo Le probabilità Di non farla combo Cioè La domanda Che mi faccio io Vale la pena Mettere un ulteriore Cosa che ti assicura La combo In un cicia zampa In cui a drop a tre Ne ha A bizzefe Doppio per side Doppio totem E doppia colette of pain La risposta è no Comunque rega Io non capisco Perché devo 4 A questa carta Io continuo A chiedermi questo Andiamo avanti In un tempo Prego In un tempo In un tempo Perché noi abbiamo capito Che con l'uscita Anche di zentimo Non è impossibile La nascita Di un tempo shaman No Comunque tendente Al midrange Non è impossibile In un tempo Ce la vedi Il bog schloscher Cioè Nel senso Giochi in bog schloscher Devi riprenderti un minion E dargli più di più due Tu stai giocando Un tempo deck Però giusto Però Il potere È esso stesso Una tempo loss Perché tu stai giocando Un tempo deck Ma hai Un battle cry Che ti genera Una Tempo loss Cioè è un po' come Stai a mangiare No Ma non voglio essere volgare Assolutamente Non pensate Che quando faccio i paragoni Tu stai volgare Ma non è vero È come Quando tu stai a mangiare Capito Prendi un boccone Invece che in bocca Te lo metti In altri sedi Cioè capito Fai una cosa Che non ha senso E vi assicuro Che la digestione Non inizia in culo Penso no Cioè nel senso Tu fai In un gioco Un deck Dal potere In tempo E ti riprendi Un mano Un servitore Questo lo potresti fare Magari Se vuoi fare una giocata Che era simile A quella dello shadow step Con l'eroe Che ne so Giochi un wolf rider In un deck Tempo shaman E te lo riprendi E questo diventa Un 5-3 Poi magari Lo giochi in combo Con Zentimo E gli dai fura del vento Fai 10 danni Magari c'è anche Una board fatta Ad altri servitori Il problema è che Tu facendo una giocata Di questo tipo Stai perdendo Completamente Iniziativa su board Cioè Riprendendoti E poi in curva In realtà Giocare il bog È molto difficile È un 3-mana 3-3 Poi forse sarà Un 3-mana 3-4 Va bene La giocavi anche Senza battle Un 3-mana 3-3 Non è un 3-mana 3-4 Come stanno stampando Le sue carte Quindi Io in un tempo Non ce la vedo Benissimo sta carta E quindi perché Avete dato 4 Cioè nel senso Dov'è che la vediamo Sta carta Nel cicia zampa Sembrerebbe quasi Una win more E non ci sono slot Per poterla mettere In un tempo Shaman Sembrerebbe Una contraddizione Perché il potere Ripeto È esso stesso A un tempo loss È normale Che se giocato Del Sarnite È forte Però dovete avere Il Sarnite in campo Dovete avere Il Sarnite in campo E riprendervelo in mano 3-mana 3-3 Vi riprendete Un pezzo di Sarnite E poi lo giocate A costo 4 Pensa un po' Che il Warlock Fa tutto questo Un mana invece E non deve mancare Il Sarnite in campo Quindi la sono in Fusion E OP Effettivamente La sono in Fusion OP Per carità di Dio Quindi Niente Non so perché Avete dato 4 Raga sinceramente Cioè nel senso Il Ciccia poche volte Sbaglia la combo Quando sbaglia la combo È perché è costretto A buttare Ciccia Perché se non lo butta Probabilmente perde la partita Se giochi Discretamente bene Non corri il rischio No? Pensa di farlo A Boh A un Al Totem Che pesca No? Fai Zola Sul Totem Che pesca Un sacco di volte Facendo Zola Ma il Totem Che pesca Rimane il Totem Che pesca Facendo Zola Sull'Ago Let of Pain Ti rimane l'Ago Let of Pain Cioè il fatto che rimanga Un servitore È buono Non hai bisogno Tu di riprendere Il servitore E far più di più due Perché il Ciccia Zampa Non è un deck Minion based Non vuoi Nel Ciccia Zampa Difficilissimo Che tu vinci Di pressure Fatta dai minion Cioè Per vincere così Devi avere Che è le set Giocarlo il T2 Top deckare Il 0-3 Che diventano 4 Top deckare Il Sarnite Top deckare Allora in quel caso Giochi in curva Con tutti i minion Baffati E vinci Di pressure Va bene Però tendenzialmente Non hai bisogno Di farlo questo Sul Ciccia Zampa Quindi la Zola Basta e avanza Se poi vuoi mettere Questo a posto Della Zola Non ti serve Ciccia Zampa Baffato in campo Certo Settemana 5-10 Overkill Ma quanto Non fanno pagare Ma io sì Ma Quanto lo fanno pagare Sto perché Sono matti sono Questo per chi Lo fan pagare In maniera glamorosa Lo fan pagare Più di Magnetic E Magnetic Mi da un cazzo Raddoppi All'attacco Del servitore Dai Allora Line Cracker Avete dato Due A sta carta Io pensate Poi ho dato Uno a sta carta Perché Dai Non ci prendiamo Un giro Settemana 5-10 È una carta È una carta Lenta Per esperienza Vi dico Che così come Non sono mai funzionate Carte di questo tipo E ce ne sono state Parecchie Allora c'era Godzilla Ti ricordi Godzilla Quella era per l'Hunter E uno può dire Vabbè Per l'Hunter Sai Ogni volta Peraltro Quella era anche più forte Godzilla Perché ogni volta Che prendeva danno Raddoppiava l'attacco Mai stata utilizzata Però uno dice Vabbè Grazie al cavolo È uscita In un meta In cui L'agro Cioè In cui Hunter era Agro È normale Che se tu mi fai Sci-Godzilla E quindi Va bene Il fatto che ne sono uscite Molte altre Anche neutre Per esempio Caro mio Lo Scaled Nightmare Te la ricordi? Lo Scaled Nightmare Era un drago I più impavidi Lo giocavano anche Era un 2-8 Che ogni turno Ti raddoppiava l'attacco Te la ricordi? Costava 6 mana E non 7 6 mana 2-8 2-8 4-8 Ricordi? I più impavidi Lo giocavano proprio Di main Non ha mai funzionato Come carta Il Buki Must Te lo ricordi? Il Buki? Il Buki Buki? 8 mana 7-8 Mi pare che è 8 Dovrebbe essere 8 mana 7-8 Mi ricordo Regà Buki 8 mana 7-8 Ogni volta Che uccideva Un servitore Overkill 8 mana 7-8 È overkill Non mi dire di no Non mi dire di no 8 mana 7-8 È overkill Prendeva più 2-2 Alla fine di ogni turno Prende più 1-p1 Questo per farvi capire Che ogni volta Che hanno provato A mettere servitori Così lenti Non hanno mai funzionato Per quanto mi riguarda Il Line Cracker È un turno 7 passo Ma non Il Buki Non mi ricordo Buki 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 Buka 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 Non mi ricordo È un turno 7 passo Non è un turno 7 passo Dove potrebbe essere Quello del Beast Druid 7-7 Overkill Spawno Un 5-5 Che è besse a sua volta Questo è proprio Un turno 7 passo Ma dove lo giochi Sta carta qua È di un lento mostruoso È una carta passiva A livello atroce 5-10 Overkill Chi stai traddando? A turno 7 In late stage Chi traddi? Chi traddi? Ma perché la giochi? Ma sei pazzo Giochi contro l'agro E turno 7 Giochi un 5-10 E verso la partita L'agro ha vinto Contro control Chi traddi? Potresti andare in leech Dopo averlo traddato Con altre cose? Ma Sta carta ragazzi È da 1 su 5 Questa è una carta filler Sono abbastanza certo In arena Potrebbe Capito no? In arena si potrebbe essere forte Ma non mi interessa nulla Dell'arena Perché a me non mi diverte L'arena non mi piace A me ragazzi Sta carta piace tantissimo A me ragazzi Mi sta carta piace tantissimo Secondo me Questa è la carta Dell'espansione Ho sbilanciato In maniera clamorosa Non avrei La carta? Questa è la carta Dell'espansione Non gli ho dato 5 Non gli ho dato 5 Non gli ho dato 5 Ma è la carta dell'espansione Questa carta è neutrale E già questo Ti deve farà brividi Sta carta è notata Dato 4 Chiaramente Allora Non so nemmeno Da dove iniziare Per parlare Da cosa vogliamo iniziare Per parlare Di questa carta? Se c'è qualcuno Che in chat Soffre il silence Lo potete limitare Per un minuto? È una cosa personale Perché Dire che sta carta Soffre il silence Sai che vuol dire? Quello che dice Il nuovo litching Può essere bannato No vabbè Il nuovo litching Lo puoi lasciare Comunque è forte Se una persona Secondo me Lo dico subito Perché è normale Che sta carta Soffre il silence Però se uno dice Che sta carta Soffre il silence Sai che sta dicendo? Aspetta Ti posso tradurre Non stavo scherzando Non devi limitare Stavo scherzando Perché le prendi tutte? Una persona che dice Sta carta soffre il silence Sai quello che sta dicendo Indirettamente? Che soffre il silence No Che tirion è una merda Quel cazzo stai dicendo? No No C'è un pezzo di merda Sì Sì È così caro È come dico io Ma è come Se uno dice Che sta carta è una merda Perché soffre il silence Stai dicendo Che tirano È una carta di merda Sì Perché è un ottomano A66 Diventa tirion Soffre il silence E quindi è una carta di merda Tirion Io sto bannando Quello scherzando È una merda Allora 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 Proprio È coerenti A me questo piace molto Sono coerenti Tirano è una merda Benissimo Ci sta Tirano è una merda Ci sta Undertaga Undertaker È una merda Sei una merda A me la carta è lenta Vabbè è lenta La carta è lenta Direi che questa carta è lenta Lo so che magari potrebbe far male Però è vero Raga Pure Silvana sarà lenta Eppure Tirano è lento Che stanno a fare La carta è lenta Ci sono delle carte Nel gioco di Arson Che a prescindere Dalla loro Velocità o lentezza Sono delle carte Che tu non puoi non giocare Perché sono delle carte Che se si sviluppano Te fanno Inizio la partita Questa è una carta di quelle Questa carta è talmente forte Che voi non potete Non metterla nel deck Perché Se ve la silenziano È una merda Perché Include il fatto E preclude che L'avversario Se debba tenere un silence Cioè Questo è il fatto che Se voi la giocate Mi faccio un esempio In paladino Tirion Destriero Linessa Cioè nel senso A vari A vari Bersagli Di silence E se voi Sta carta Ve la tenete Per il late stage E l'avversario Ha già giocato I sui silence Sta carta Il late stage Fa quello che faceva Anzotte E quello che fa Lan Questo è un discorso Molto generale Per farvi capire Che non si può ragionare Su una carta In funzione del silence Perché pure L'arma del warlock È una merda Con gli spaccarma Eppure non è stato così È stato così? No L'arma del warlock È stata fortissima Eppure gli spaccarma In Hearthstone Non esistono a BZF Sì è stata fortissima Lo stesso Questa carta è forte Lo stesso Ora A precedere da questo La carta Come Battlecry Mi fa guadagnare Tre effetti Deathrattle Di servitori Che sono morti Questa partita Cioè Il fatto che sia neutrale E che dica Questa partita Rende la carta Veramente pesante Da digerire Nel senso che Mica È forte È forte È forte Per forte Perché ancora una volta La carta è versatile E si adatta A tantissimi tipi di deck Tantissimi Ok E Ora Se questa carta Entra in meta Io vi assicuro Che i Silence Entrano in meta Sai che paragone Vi faccio? Vi faccio il paragone Di quando È entrato in meta Il Bigamunter Il Bigamunter Quando era in meta Quando erano in meta I giganti Quando era in meta Il Leech King Anche se il Leech King Attualmente è in meta Quindi il Bigamunter Probabilmente ne potremmo vedere Ecco la stessa cosa Che questa Se questa carta Entra in meta Vi assicuro che Tutti i deck Druido incluso Avranno un Silence Per rispondere a sta carta Perché altrimenti Vi vince la partita 8 mana 8-5 Beh Che già non è male Un Epidimeno e mezzo No Alla fine Un 8 mana Con 8 d'attacco Mette bella prece Se muore Sei fottuto Praticamente Qua ci sono una serie di cose Che potrebbero rendere Sta carta Non forte e sgravata Allora La prima è un antipastino Che sarebbe Atronox Attualmente Atronox In un Taunt Druid Voi ne potete avere Al massimo 4 1 Chiaramente giocato Di main Poi ne avete 2 Giocati 1 Perché le bichingabra Si giochino per E poi quelli sviluppati Dal cubo Tendenzialmente Poi il cubo Quello silenzio Però Con questa carta Voi potete avere Un ulteriore Atronox Visto che Il Taunt Druid Ha solo Atronox Come carta Con Death Rattle Questo è Un Atronox 8 mana Avere un Atronox In più Uno mi dice Si Ma è comunque Una win more È una win more Manco per il cazzo State giocando Contro un control warrior Che già avrà utilizzato I suoi silenzio E probabilmente L'ha giocati anche Con Zola Avere un ulteriore Atronox È brutto? No Non è brutto per niente E Lenta come giocata Molto lenta Perché vuol dire Che voi Undertaker La giocate proprio Alla fine della partita È la vostra ultima cartuccia L'ultimo asso Che ci avete Nel pantalone Le cose si fanno Via via più chiare E più Antipatiche Per l'avversario Quando invece Si parla di Mortal Prelate Ora io non ho ben capito Se sta cosa funge Ma se funge Voi avete capito Hai capito Quello che succede Se funge sta cosa Mario Tattillo Già Se questa cosa funge E Undertaker Prende il randolo Di morte Dell'immortal Prelate Succede che L'Undertaker Ritorna nel mazzo Giusto? Giusto E se tu E se tu L'Undertaker Poco poco Comunque Lo buffi Mantieni buff Giusto? Giusto? Giusto Cioè nel senso Perché me lo devo dire Cioè nel senso È inutile che vi dico Che sta cosa È malata È malata Poi ho messo Cicciazampa Perché ho messo Cicciazampa? Allora Il Cicciazampa Come Battlecry Vi ripete tutti i Battlecry Quindi è normale Che vi ripete pure il Battlecry Dell'Undertaker È chiaro che In uno Shaddenbock Questo non avrebbe senso Sarebbe una cosa interessante Se me lo mettete Magari in un deck Che non c'entra niente Col Cicciazampa In cui poi Lo Shaddenbock Metto in campo Vi prende anche Il dio di battaglia Di Undertaker Ora sto deck Non so in realtà Come potrebbe essere fatto Anche perché è un deck Che dovrebbe avere Dei ranturi di morte Per uno sciamano La cosa non è facilissima Però È una eventualità È una possibilità È normale Che funzionerebbe Anche con la Geesebang del Rogue Però Scusatemi una cosa Il Rogue Cos'è che c'ha Come il rantolo di morte C'è qualcosa Che come il rantolo di morte Ti dà attacco all'arma Che poi è la cosa Che vi interessa a voi A vincere di arma No? Quindi Se prendi il rantolo di morte Della Kingsbane Che è la stessa cosa Dell'Immortal Prelate Vi serve anche Di andare a A meno che voi Non volete sempre Un 8-5 Che ci sta Cioè nel senso Voi 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 col Kingsbane Rogue Non andate mai in fatica No? E giocate sempre l'arma In più Invece che attacca Con l'arma e basta Mettete sempre un 8-5 È un po' quello che era Ti ricordi Caro la carta del druido Come si chiama? Dai il 9-7 Che Il 9-7 Che poi rientrava del deck Ah quello È la stessa Identica cosa Il Cervus Sarebbe rega La stessa cosa Cervus Il Cervus Però insomma Non lo vedo così Io non lo vedo così forte Ma l'orn Ma l'orn Bravissimi Non lo vedo così forte Come nell'Immortal Prelate In un deck druido In un deck paradino Ma tu caro Lo sai il paradino Quanti counter Cioè quanti bersagli Avrebbe per il silence Li vogliamo contare? Lo stesso Immortal Prelate Cioè il Immortal Prelate Se non me lo silenzi Vuol dire che se tu sei un contro L'hai perso la partita No? Perché questo lo ritorna sempre Con buffato Ecco Se voi siete intelligenti E magari giocate Undertaker Sempre il Ragazzi Sta carta L'Undertaker Non è una win more L'Undertaker È una carta Che voi giocate Come Alanna Giocate quando Potete intuire Che l'avversario Non ha modo Di rispondere A una giocata del genere Ok Mechanical Whelp Il mechanical whelp È molto generico In realtà Vuol dire tutto E non vuol dire niente Il mechanical whelp Vuol dire che tu Undertaker Lo puoi giocare In un detrattol In un detrattol Priest In un detrattol Rogue E in un detrattol Hunter Cioè Il whelp Non significa niente Significa che comunque L'Undertaker Ti evoca una 7-7 E visto che il whelp È giocabile comunque In Hunter In Rogue Detrattol E anche in detrattol Priest Vuol dire che L'Undertaker Tu hai messo Atonox Perché comunque Così puoi È un ulteriore Atonox È come se fosse Atonox A chi fa schifo Un altro Atonox In un town druida Nessuno E quindi questo è Un altro Atonox E poi ragazzi C'è questa cosa C'è Playdead Playdead Allora Playdead Playdead Rischia veramente Di Rompere Proprio La sinergia Con la carta Ci sono Una serie di cose Cioè nel senso Il motivo Amore mio Perché ho messo il whelp Non è casuale Perché ho messo il whelp Perché tu Se tu al turno 9 Vuoi fare Undertaker Playdead Magari a te Non basta Avere il 5-5 Ok A te magari Magari Catrina l'hai giocata Fai finta che comunque Catrina l'hai giocata Non hai più Best nel deck Ti serve Un ulteriore value Perché se tu si Playdead su Undertaker Vuoi Che l'Undertaker Quando puoi muovere A meno che non te lo silenziano Quindi il Playdead Potrebbe anche essere Un counter del silence E non ho giocato subito Perché il Playdead Costando uno Evita che l'avversario Possa silenziarti O polimorfarti Ho messo anche il whelp In modo che Perlomeno ti spotano Un 8-8 Una 7-7 Un 5-5 E magari anche Una bestia da Catrina In modo che Al turno 9 Tu puoi rompere Completamente Questa cosa E l'avversario Di consacration Ok Hai risolto il problema Ma mi hai Di nuovo Poi Mi hai ucciso Undertaker E quindi Mi ributti Altri tre servitori Non è facile Quindi Playdead Secondo me Su sta carta Può essere molto forte C'è un problema Però Che avendo voi Giocato un Deathrattle Hunter Giocate anche il cubo E chiaramente Inutile che vi dico Se l'Undertaker Prende il Deathrattle Del cubo Siete fottuti Nel senso Non c'è niente Ragazzi Io credo che Questa carta Chi dice che Questa carta è scarsa Ma non esiste Non ci può essere Una persona Che possa Dicare che Questa carta è scarsa Perché questa carta Entra in tutti Quasi tutti i deck Ormai La deck Deathrattle È talmente utilizzata Su Arsenal È talmente forte Che Poter godere Di altri Di 3 Deathrattle Dei minon morti Nella partita Può renderla Combo Veramente forte 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 Se poi voi Potete addirittura Fare un qualcosa A 10 mana Sarebbe meglio Quando dico Di un qualcosa A 10 mana Dico un qualcosa Abbinato a un'altra carta Che può in qualche modo Counterare un Silence Queste sono Play Dead Ma aiutate Che ci potrebbe Essa 2 mana Che potrebbe Counterare un Silence Play Dead Ancestral Spirit Oppure la nuova Spella 2 Essence Potrebbe essere utilizzata Questa si Questa è la forte Con Conceal Con Conceal Si Con Conceal Era forte Vabbè normale Non penso Ci sono altre carte Che te la fanno Occultare Con furtività Con la Spella 1 Del Warlock Con la Spella 1 Del Warlock Bravissimo Bravissimo Con la Spella Il Prete Quindi il Prete Ce la fa Però devi fare Un detratto al Prete Lo puoi fare Fermati Fermati Con cosa Avete altre idee Dica Con Megaktoon Con Megaktoon Si Non l'ho voluto mettere Megaktoon Caro Per il semplice motivo Che C'è nel senso Ci sta Ci sta Vedendo bianca L'immagine La tua webcam Sembra che si è apparsa La Madonna Ma sono ancora vivo C'è nel senso È normale Tutto questo Un evento misto Chiamavano Brozio Chiamavano Brozio Il gatto Il gatto Chiamavano Chiamavano Brozio Chiamavano La polizia Quindi Il Prete Ce la fa Il Lanter Ce la fa Il Warlock Ce la fa Vabbè Sì Il Warrior Con Slam Insomma Con Slam Mi sembra Una cafonata Perché il Warrior Non goderà tanto Di questa carta Il Warrior Oddio 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 Il Controlled Warrior Oddio Insomma Il Controlled Warrior Ha delle carte Che con Tra l'altro Non funzionano Il Corno Furente Il Corno Furente In due per Oh Regà Il problema è che Non è dispari Però Non è male Dovresti fare Però un Controlled Warrior Non con qualche Detrattol Questa ragazzi è una carta tipicamente da control È normale che se la metti in gioco con Hunter La vuoi giocare in tempo completed Però nel senso Non si può dire che sta carta sia brutta Per la versatilità che ha Bella Secondo me questa è la carta dell'espansione Un po' come quella che è stata Zillax per la scorsa No Abbiamo visto Zillax Ho detto come fai a dire Cioè Che abbiamo detto su Zillax Come fai a dire Che è una carta brutta Infatti sta in tutti i deck Questa chiaramente è un pochino più tecnica di Zillax Perché è un po' più specifica Perché purtroppo Hai bisogno di Minon con Detrattol E alcuni deck non ce li hanno Però nei Minon che ci hanno Detrattol E ne sono parecchi Sta carta è un atto include Per forza Sam Bruges Ah chiaramente Molti mi hanno chiesto Col Destriero No il Destriero ho capito Che ti dà l'antano di morte E evoca un 2.6 Quella è una spele Non c'entra niente Questo Non funziona neanche con Umbra Per dire Beh nel senso che Possiamo chiudere velocemente Penso la carri di oggi No Beh nel senso che Questa è un'ennesima prova Che come dico io Si sta tentando un attimo Di mettere Van Forte Al Miracle Priest Cioè sta carta è da Miracle Anche perché poi Raga peraltro Sta carta è uscita con quest'altra Cioè nel senso voglio È uscita con quest'altra carta Cioè sono uscite insieme Queste due carte Ma quindi Mi fa capire Una cosa basilare Che poi è una da Van Forte Questo Miracle Priest Il Sam Bruges Ogni volta che casti una spele Da questa zombie 1-1 con Taunt Il che non è male No si è paragonata Anche volendo Alla Non mi ricordo Alla Valley Teacher 4 mana 3-5 Spona un 1-1 Questo è uno zombie 1-1 con Taunt Il fatto è che La giochi solamente In un deck Tempo Miracle Con Quello di prima Quello che stiamo dicendo sempre Io ho capito che hanno messo Anche i giganti Per carità di Dio Loro ci stanno Proprio ci stanno puntando tanto I giganti Ve li ricordate no? Sono i 7-8 con Taunt Che si scontano Per ogni spell Che voi avete giocato Per altro Generate costa 0 Vi cura di 3 Una carta che potrebbe Anche andare bene Per esempio Con il Quello delle zuppe Quello delle zuppe Mi sembra di parlare Con quello Con lo stronzo Ormai è lo stronzo Delle zuppe Quindi vero L'1-4 Che se voi curate Di 3 o più L'eroe Pesca una carta E niente Che vi devo dire Questo è nel senso Che basta tutto questo Per render competitivo Un Miracle Priest Abbiamo l'arma Che evoca i draghi Abbiamo Radiante l'evento Abbiamo l'ira Abbiamo la nuova spell a 2 Che ci possono far riprendere Magari un elementale Per pagare ancora meno La spell Iniziamo a cicla con l'ira Cicliamo Cicliamo Abbiamo la spell a 4 Per rievocare l'ira Perché l'ira In questo deck È l'epicentro Tutto si gioca Intorno all'ira Ma come cazzo Vinci sta partita Cioè nel senso Con questo che evoca Taunt Cioè questo che evoca Taunt Questi Taunt Non c'hanno una carica Sì sarebbe stato Probabilmente sbroccato Avessero avuto carica Vinci con i giganti Sono 2-7-8 Con Taunt Ora in un deck Che non c'ha servitori Io credo che 2-7-8 Me li tradda pure Ico Varian Clip 2-7-8 Non c'è solo quelli La tradda Il resto è tutta merda Aldo Sei entrato Ci stiamo insulti a tutti Hai portato depressione Ma ti domanda Come mai Mattia Ha una palla solo? Ma non c'ho una palla solo FF E finzione Non è vero C'è tutte e due Vi lascio vedere C'è tutte e due C'è tutte e due Dai Spettiamo E sghere Aldo non guardare Non guardare Non guardare Vabbè Te ne prega più niente Comunque Questa Due Due Sì Sto d'accordo con te Rigenerate Non la votiamo Tanto ste carte Sono state fatte Per essere messe Nella stessa deck A meno che non ci sarà qualcuno Che la può giocare in combo Con lo cenai Un pazzo Prima perché lo cenai Non è una carta da giocare Secondo che È troppo poca È troppo scarsa La value No? Per giocare lo cenai E far tre danni Con lo cenai Che c'è Che c'è Di sa bene